Grazie, io volevo dare un contributo riprendendo anche alcuni spunti della giornata in particolare di Martina sul livello operativo, però volevo partire da una considerazione prima più generale che riguarda la neutralità come concetto legato anche alle scelte di un singolo paese. Che è una dimensione che oggi secondo me potrebbe anche non trovare uno spazio così ampio dal momento che anche il nostro articolo 11 ripudiando la guerra però ci colloca comunque in una dimensione internazionale per cui immaginare secondo me oggi di chiedere una neutralità rispetto a quello che avviene quando abitualmente non si è protagonisti diretti ma spesso si partecipa proprio con una funzione di terzi età ad interventi in aree di conflitto mi sembrerebbe forse bisogno di una riflessione un po' approfondita quindi volevo invece fare riferimento ai principi che negli ultimi anni sono stati più frequentati nell'ambito della gestione del conflitto e ovviamente il riferimento maggiore è quello alle Nazioni Unite le Nazioni Unite hanno proposto di agire con un criterio che era prima di tutto di prevenire i conflitti e di portare la pace con mezzi pacifici da una parte dall'altra si erano riservate la possibilità di intervenire come autodifesa individuale o collettiva per decisione del Consiglio di Sicurezza questo per dire che abbiamo anche nella comunità degli stati degli impegni precisi in un senso che potrebbe anche essere condiviso Peace by Peaceful Means non a caso è anche uno dei criteri maggiori che spinge i ricercatori della pace a trasformare i conflitti e tante organizzazioni ad impegnarsi come parti terze nella gestione delle aree di conflitto dando un supporto alle popolazioni locali quindi io penso che anche in ambito internazionale in questo mondo ormai globalizzato interconnesso possiamo inserirci in un'ottica propositiva Ora il problema qual è? Che nonostante i propositi iniziali le Nazioni Unite hanno poi iniziato un processo che di attuazione della carta che è andato molto lontano dai presupposti iniziali sviluppando poi di fatto soprattutto azioni legate a una prassi perché il peacekeeping non era previsto a una prassi che si è colorata negli ultimi vent'anni di sempre di più di utilizzo della forza allontanandosi dai principi che avevano inizialmente concordato ovviamente non nella carta perché si trattava di una prassi ma che erano abbastanza condivisibili nel senso che si trattava di agire con il consenso delle parti, con imparzialità e con utilizzo minimo della forza in funzione di autodifesa quindi fin qui diciamo che tutto sommato potremmo ancora supportare un'azione connotata in questo modo il problema è che negli ultimi anni anche con una forte erosione del concetto di sovranità che era pure tra i principi della carta si è cominciato a teorizzare di poter ingerire anche rispetto alle sovranità statali con un principio di ingerenza umanitaria inizialmente tradotto poi in maniera diciamo più accettabile con la responsabilità di proteggere e quindi anche logorando la sovranità statale allora a questo punto a che principi fare appello visto che l'imparzialità in sede Nazioni Unite è diventata non più imparzialità rispetto alle parti in conflitto ma rispetto della carta delle Nazioni Unite e del mandato e i mandati sono anche spesso in relazione ad una parte diciamo il consenso che è anche messo diciamo in dubbio perché comunque si interviene anche senza il consenso in aree di conflitto e in più l'utilizzo minimo della forza è diventato poi peacekeeping robusto oppure così via adesso senza entrare nel dettaglio voglio dire che in sede internazionale secondo me chiamarsi fuori non si può ma rispetto a questo sviluppo potremmo cercare di rafforzare alcuni segnali che sono interessanti ad esempio diciamo quello scenario che è drammaticamente escalato negli ultimi anni per esempio con il terrorismo l'abbiamo ricordato le fasi dopo le torri gemelle ha portato le Nazioni Unite a un ripensamento e a un proposito del 2015 di lavorare di più in sinergia con le organizzazioni anche non governative che agiscono in maniera non violenta in aree di conflitto per la protezione dei civili quindi in questo diciamo anche per esempio per dirne una non violent peace forse ha visto un segnale interessante che può creare uno spazio. In questo senso voglio richiamare anche la legge recente di luglio scorso la legge quadro per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali che ha incluso anche grazie all'intervento del professor Papisca anche le missioni civili e i corpi civili di pace e anche mi fa piacere citarlo perché mi è stata data la possibilità di supportare questa introduzione e il riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che promuove la partecipazione delle donne nelle aree di conflitto e al piano nazionale italiano che è implementato dal 2010 in poi adesso stiamo per adottare il terzo quindi ci sono dei punti di entrata personalmente e chiudo avrei più perplessità a utilizzare il concetto di neutralità che appartiene per sua indole almeno nella mia visione ad un altro filone che è quello più legato non alla gestione dei conflitti ma all'azione umanitaria sono principi che non sono quelli tipici dell'azione terza non violenta e quindi non usano perché NPA anche non parla di neutralità si parla di imparzialità si parla di primazia delle parti in conflitto quindi di sostenibilità e si parla di eventualmente non partisanship mentre l'umanità, la neutralità e l'indipendenza mi suonano più diritto internazionale umanitario e azione umanitaria che è una cosa importantissima di cui però c'è già tanto in cui si stanno purtroppo deviando anche le Nazioni Unite e che comporta un minore coinvolgimento nelle dinamiche del conflitto perché neutralità principalmente significa questo anche se abbiamo degli esempi molto interessanti e c'è qui Nino Sergi che è una testimonianza concreta di questo che anche l'azione umanitaria può essere indirizzata allo scopo della pace però io per l'azione di pace vera e propria e per i terzi imparziali preferirei fare riferimento al patrimonio comune delle organizzazioni non violente che hanno come principi che possono essere integrati però mettono al primo posto altre cose come la solidarietà, la non violenza e la non partisanship. Grazie